È molto importante la partita contro la Gran Bretagna perché già per un po' di esperienza cercheremo fino all'ultimo di qualificarci, anche se sarà dura, però andiamo passo per passo, cerchiamo di vincere già in Gran Bretagna, dobbiamo ricordarci che l'ultima volta che siamo andati lì abbiamo perso, già forse per dimostrare che siamo a un livello più alto, che era solo un caso, abbiamo perso lì, adesso cerchiamo di vincere già giovedì di vincere, dopo cercheremo di qualificarci fino a giugno contro Grecia e la partita restante contro le due partite restanti, che restano e dopo vedremo, sarà sicuramente anche un buon evento per i giochi di Mediterraneo che arrivano a fine giugno, cercheremo di trovare i ritmi, di conoscerci meglio come gruppo, perché sarà un torneo molto importante come torneo per noi. Per noi è una bella cosa fare la semifinale, già da italiano è un buon'impresa, perché comunque una Coppa Europea, EKF, semifinale è una grande cosa, sono molto fiero che giochi una squadra del genere già con tanti tre campioni del mondo e fare una Final 4 soprattutto in casa sarà una forte emozione, farla di italiano e posso essere anche molto contento di poter anche far parlare un po' dell'Italia nel mondo.